Signore, avere un figlio destinato alle onore degli altari, ma questo figlio, dove ha trovato così tanta fede? Guardi, è per me anche un mistero, perché effettivamente io e il papà non eravamo così religiosi. Carlo sin da piccolo, fin dai 3-4 anni, ha sempre dimostrato una grande attrazione, soprattutto un grande interesse verso Gesù, la Madonna, la storia dei Santi. Quindi è un qualcosa che devo dire che è lui, non è tanto un fatto della famiglia. Poi ovviamente Carlo ci ha trascinati anche a noi, ci ha fatto diventare dei genitori più bravi. Infatti in un certo senso per me Carlo è stato un po' come un piccolo salvatore, perché io tramite Carlo ho approfondito la fede e mi sono riavvicinata. E devo dire che questo è stato uno dei primi frutti in famiglia di Carlo. Si può superare un dolore così atroce come perdere un figlio, perché si sa che questo ragazzo dà frutti comunque? Questo sicuramente è un motivo di grandissima consolazione, perché Carlo, a parte che ha fatto una mostra sui miracoli eucaristici, che è stata ospitata in tutti e cinque continenti, che è una cosa incredibile come il bene che sta facendo, ma poi io vedo tanti ragazzi, giovani, persone che ritrovano la fede e seguono l'esempio di Carlo. Quindi questo è una grandissima consolazione, ma soprattutto il Signore ci aveva anche un po' preparati, perché anche questo cammino che abbiamo fatto grazie a Carlo, quando è arrivato questo momento, eravamo pronti in un certo senso. Quindi l'abbiamo vissuto con serenità, perché sappiamo che comunque è un arrivederci, non un addio questo. Signora, ma adesso l'emozione di vedere un figlio all'onore degli attari? Ma per la verità non è, la causa è solo la fase di Ocesana, andiamo calmi, perché poi sarà la Chiesa che nostra madre è maestra, che ci istruirà, che dirà, ecco. Però noi siamo contenti, perché certamente questo è un passo importante, soprattutto per tutti i devoti e le persone che lo seguono, perché noi genitori il bene lo vediamo già adesso, che sta facendo, capisci? Però è chiaro che se la causa andrà avanti, noi siamo molto felici, perché questo conforterà e sarà di grande consolazione per tutte queste persone che lo seguono, lo pregano. C'è un rapporto adesso qua? Ah beh, sicuramente, poi tanti stranieri, veramente la cosa mi sorprende, ecco, paesi incredibili come l'Indonesia, la Corea, il Vietnam, l'Australia, gli Stati Uniti, non le dico come la mostra di Carlo, è stato ospitato a migliaia di parrocchie, quindi questo certamente è una cosa incredibile, incredibile, perché in fondo un ragazzino di Milano, da solo, con internet, ha fatto tutto questo, e quindi l'utilizzo di internet per il bene, no? L'essere, diciamo, padrone di questi strumenti e non il farsi soggiocare, ecco, questo sicuramente è un messaggio per i giovani, che devono capire che internet può essere uno strumento meraviglioso di aiuto al prossimo e a tutti coloro che hanno bisogno, veramente, e diciamo, ci auguriamo che questo esempio di Carlo venga seguito da tanti giovani. Ha altri figli, signora? Sì, diciamo che Carlo ha fatto per me questa grazia, per noi, ecco, perché dopo la sua morte era figlio unico, insomma, non era facilissimo, ma siamo riusciti a avere questi due figli, Francesca e Michele.